Noi potremo utilizzare questa sala sia per poter fare ricerca, che è importantissimo, perché non esistono in Europa delle casistiche ampie sui soggetti deceduti per Covid e due per fare didattica. Una sala dedicata alle autopsie di Salme con causa di morte sospetta per malattie infettive diffusive, l'unica attualmente a norma in Puglia per poter effettuare autopsie dei soggetti deceduti per Covid e non solo. Nell'ambito di una ristrutturazione globale della medicina legale universitaria del Policlinico di Bari è stata realizzata una struttura con il massimo livello di biosicurezza per gli operatori e con una camera permanentemente a pressione negativa dotata di un sistema continuo di aspirazione e refrigerazione ambientale. I lavori disposti dalla Direzione Strategica del Policlinico di Bari sono partiti a dicembre e sono terminati ad inizio aprile. La sala è dotata di un sistema di videosorveglianza con telecamera mobile ad alta definizione per documentare e registrare tutte le operatività svolte, ma non solo. La telecamera e il monitor che potete vedere inquadrati servono perché innanzitutto in questa sala non entreranno mai più di quattro persone contemporaneamente. Tutti gli specializzanti oppure in caso di autopsia giudiziarie, avvocati, magistrati e forze dell'ordine potranno vedere quello che noi facciamo con un sistema di videoregistrazione in un ambiente protetto, connesso mediante videocetofono, in maniera che se hanno domande, chiarimenti o delucidazioni sul tipo di autopsia che stiamo facendo potranno tranquillamente farcele e noi le faremo in sedia di autopsia. E non solo Covid-19, la disponibilità di una sala autoptica di terzo livello consente di effettuare anche le autopsie di soggetti deceduti per malattie infettive diffusive come l'epatite fulminante, la meningite, la SARS, l'AIDS, l'encefalopatia spongiforme bovina che possono essere effettuate solo in ambienti con alto livello di contenimento del rischio infettivo per gli operatori. Un investimento importante per situire un'infrastruttura fondamentale per la ricerca e per l'assistenza in un periodo difficile come quello della pandemia Covid-19. Una sala attrezzata in questa maniera consente a tutti gli operatori di lavorare in piena sicurezza ma soprattutto ci dà la possibilità di fare degli approfondimenti diagnostici fondamentali per capire meglio questa patologia da Covid-19 che ancora oggi purtroppo ci sta affliggendo.